Non si è fatta attendere la replica della Multiecoplast, la società di gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani del comune di Capodorlando, alla quale giorni fa il comune ha inviato, con una nota, la contestazione di ben 27 servizi. La società ha recisso unilateralmente il contratto, affardata dal prossimo 15 settembre, per non aver ricevuto il pagamento di fatture, alcune parecchie arretrate, per l'importo di 3.200 euro circa. Ieri l'avvocato Maria Grazia CPT, per conto della Multiecoplast, ha scritto all'ERUP dell'Aro, la società d'ambito cui Capodorlando fa parte come capofila, e dallo stesso comune, annunciando di voler chiedere i danni ai due funzionari comunali che hanno redatto la nota di contestazione per l'abnormità della stessa in relazione ai punti sopra specificati. I punti contestati dai geometri, secondo la Multiecoplast, sarebbero il numero 1, cioè quello relativo alla presunta inadempienza della paventata implementazione del sistema di raccolta puntuale, il quarto, relativo al sistema GPS, il settimo per l'attivazione del badge, ed il quindicesimo per la raccolta dell'umido. Relativamente a quest'ultima contestazione, la Multiecoplast evidenzia che la raccolta delle foglie è stata regolarmente effettuata dagli operatori dello spazzamento manuale, che giornalmente garantiscono la pulizia e il decoro di Capodorlando. Inoltre, si legge nella nota, le compostiere, come regolarmente comunicato, sono state acquistate nella fase di avvio del servizio e sono a disposizione del comune di Capodorlando da oltre due anni. I sacchetti biodegradabili, inoltre, sarebbero stati consegnati regolarmente e sarebbero tuttora a disposizione presso il centro comunale di raccolta per gli utenti che ne facciano richiesta. L'avvocato scrive che complessivamente ammontano 11.414 mazzi da 52 sacchetti. Un contenzioso che sembra solo all'inizio, aspettando le prossime puntate.